Qui è tutto in rovina. Un cacciatore di taglie. Gli Axion ci hanno rintracciato. Arrivo! Oh, si pizzica un po'. La passata è di peggio! Ah, niente male. Io sono Cage Vanda. Questo... Grufafango ha trovato le tue tracce all'avamposto. Cal... Vuol dire che mi tenevi d'occhio? Tutti ti tengono d'occhio, Cal. Non capita tutti i giorni che i nuovi arrivati si presentino abbattendo uno degli uomini di Ravis. Sì, tra parentesi, ci sai fare. Bella entrata in scena. Grazie. Che cosa vuoi? Ah, cosa voglio. Cal, voglio ricompensarti per ognuno di questi... ...che metterai fuori gioco. Non sei l'unico che è venuto su Kobo in cerca di... ...pace e tranquillità. Trappale i cacciatori di taglie... ...e ti premierò... ...con qualcosa di bello. Era uno degli Axion. Significa che ne arriveranno altri. Esatto. Per tua fortuna. Occhi e orecchie ovunque. Passa al Saloon. Ti... ...aiuterò a sbarazzarti dei cacciatori. Bene. Ci penserò su. Qui sono l'unico a non avere dei razzi. Davvero niente male. Andiamo, amico. Dobbiamo ancora trovare il rifugio di Dagan. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.